Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di nuovo dell'azienda farmaceutica Vexi per questo favoloso prodotto, ovvero una crema corpo che agisce sulla cellulite e sulla ritenzione idrica è davvero utile, soprattutto in questo periodo in estate e va a trattare gli anestetismi della cellulite, agisce anche sulle adiposità localizzate e riduce anche il gonfiore io ve li consiglio assieme a questi altri prodotti che mi hanno inviato ovvero l'integratore alimentare, quello per poter drenare e infine questi qua che sono degli integratori in polvere quindi tutta questa linea Vexi io ve la consiglio di acquistarla perché sono veramente prodotti fantastici vi lascio il link qui sotto di ogni specifico prodotto che comunque vado a parlare nel dettaglio seguite l'azienda Vexi dove comunque vi consiglieranno tantissimi altri prodotti grazie ancora